ciao a tutti nab e nab e ben ritrovati dal vostro site eccoci di nuovo in un altro episodio di days gone nell'ultimo episodio eravamo rimasti nell'accampamento di tarker mi sembra tarker e alaka insomma se non lo facciano sto cazzo di caricamento porca miseria porca miseria un'ora di gameplay solo di caricamenti ok allora il caricamento è finito dobbiamo trovare il randaggio della missione drogato marcio e io direi di iniziarla subito ci vediamo là ok dovremmo essere arrivati siamo arrivati vediamo adesso cosa dobbiamo cercarlo uno di loro si chiamava randall è rimasto con noi quasi un anno ecco ok l'indizio vediamo eccolo ai 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 dobbiamo inseguirlo al campo di copland e iniziare a sparare vai 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 cazzarola quindi ok ok ci siamo riusciti madonna è stata un'agonia sprega tutti i colpi che cosa che cosa hai fatto figlio di puttana ehi no 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 lo voglio quel casco è un po contrario e non piace neanche a me a dire il vero copa è finita perfetto quindi segnate queste coordinate e manda qui ah quindi lo lasciamo qua ok ok allora sono arrivato all'insegnamento di copland per parlare con lui appunto facci sapere buser ok niente non ce lo fa sapere vediamo cosa ci dice cop ah però gli abbiamo portato l'aere fortiva di lì o no giusto si abbiamo scelto di darla a copland invece che ai tarker forse lui può aiutarti con la tua moto ah vediamo a che punto sta manny ok allora ho aumentato un po' la moto un bel po' la moto in realtà e adesso me ne devo andare su ok come stavo dicendo mi sono riferito un pochino di munizioni ho aumentato anche la moto e adesso dobbiamo andare a liberare quell'avamposto dai nidi ci vediamo dopo infatti già ce n'è uno che rompe i coglioni si ma io sto sparando non puoi parlare con buser mentre sparo come volevi con il polveretto quanti altri ci saranno per questo ma se io tipo visto che questi studenti arriveranno faccio così morti morti dimmi di si no questo è ancora vivo come che è possibile che sia ancora vivo ah porca miseria erano troppi no 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 ok e lo accetta aia aia oh e che cavolo qualcosa esplode ti prego dimmi che esplode dimmi che qualcosa esplode ti prego perfetto certo che comunque se gli tiro del fuoco dovrebbero bruciare dentro il nido secondo me poi e questo era l'ultimo quindi adesso io me ne vado no no prima facciamo di questo e questa è andata ok ricarica dai ma non mi non mi fare questa cosa mentre sto sparando finalmente ok ho fio di colpi me ne vado me ne vado via no 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 via 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 da questo posto via addio addio ok allora ho liberato il campo dai nidi e adesso dobbiamo andare a vedere la lapide di Sara quindi ci vediamo lì vediamo ma quanti ce ne stanno qua dentro mio dio via vattene via qua li eliminiamo farò qualche adesso farò qualche video off screen magari oh mio dio che salto io me ne vado cioè non è possibile porca di quella miseria e dai però oh siamo arrivati qui questo bel posticino dovrebbe essere un campo profughi però io me ne vado a piedi perché mi sa che mi conviene perché sento anche uno zombie non c'è vabbè ma qua ma come fanno ad esserci i tuoni ma c'è il sole come fanno ad esserci i tuoni ma che ok dovremmo essere alla tomba aspetta che prima no non mi hai visto sto in mezzo ci spuglia è impossibile che tu mi abbia visto ecco bravo bravo continua a camminare bravo non ti girare bravo quanto sono bravi obbedienti questi zombie furiosi insomma oh perfetto e adesso li ho uccisi tutti dopo un'eternità andiamo a vedere parlavano di una tomba eccola eccola parca miseria che è successo ritorna il flashback questo è prima dell'incidente taglio strano bambina quella che gli ha dato la coltellata perché ah era infetta anche lei anche lei anche la bambina era offerta perché era pugnalata quindi ecco come è successo confederale insomma non so che sono più morti che ero ma i vestiti di buzzer non erano caricati ok questo l'abbiamo visto non bene ripeto vabbè vabbè magari magari era per difendersi ok e poi vabbè la storia la sappiamo come è andata a finire quindi quindi quell'elicottero si è schiantato ahia forse qui puoi riposare sta delirando per funtire cazzo guarda dobbiamo andare no lei non si passa ahia ahia forza ehi tesoro ce la fai? bene user faccio io trovo l'uscita lo sparano pure uomo impaurito ah porca miseria pure buzzer sanguina parecchio la verità che si era fatta come facciamo? ok attira l'attenzione provo a girarla da dietro tranquilla non è niente vai davvero vai ma che c'entra lui? senti io non so l'una di te mi dispiace tanto ma noi non c'entriamo non c'entriamo senti davvero c'entra mia moglie davvero mia moglie mi avverete l'ammazzano lo so ora basta mettila basta 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 beh non c'è l'alternativa niente mi ha ucciso uno scarafaggio tu riposa tranquilla ok tornerò a vedere come stai si lo so tu non vorresti ma forse forse buzzer ha ragione quindi i tulipani erano per lei io volevo portare la doccia come ho detto tornerò presto allora io mi fermo qua vi ringrazio di aver seguito il video vi ringrazio di essere passati vi invito ad iscrivervi e a metterci mi piace e a seguire tutti quanti i canali in descrizione noi ci vediamo in un prossimo video dal vostro Zeit è tutto ciao nabbi congratulazioni per essere arrivato alla fine del video se ti è piaciuto lascia un like e un commento iscriviti anche al canale e attiva la campanella per le notifiche e se non ti vuoi perdere nessun aggiornamento o novità seguici su tutti i social linkati in descrizione l'invasione nabba è iniziata grazie a tutti